Ha regalato momenti di grande suggestione la serata di apertura della quinta edizione del Festival delle Bellezze, che la sera del solstizio d'estate nel castrum romano della Cruca a Sassari ha proposto il concerto epico al tramonto dell'insieme vocale Nova Eofonia e della corale studentesca Città di Sassari, dirette dal maestro Vincenzo Cossu. I brani proposti sono stati pensati per esaltare il fascino del luogo, in linea con quello che è lo scopo del festival, dare voce alle bellezze del territorio del Sassarese attraverso la musica di artisti di spicco del panorama musicale sardo. Ora il Festival delle Bellezze, organizzato dall'Associazione Culturale e Musicale Insieme Vocale Nova Eofonia, si prepara al prossimo appuntamento. Domani, primo luglio, a Lomedo, il complesso megalitico di Monte Baranta ospiterà il concerto dei tenores di Neoneli, lo storico gruppo che dal 1976 racconta la Sardegna in tutto il mondo attraverso canti e melodie identitarie. Nel quasi mezzo secolo di carriera il coro ha toccato ogni angolo della Sardegna, ha percorso quasi tutta l'Italia e si è esibito in oltre 30 nazioni, dall'Argentina al Giappone. I tenores negli anni si sono contraddistinti inoltre per prestigiosi collaborazioni all'insegna della contaminazione. La serata a ingresso libero prenderà il via intorno alle 19.30 e sarà aperta da un saluto musicale della corale studentesca Città di Sassari. Il festival è inserito nel progetto della Camera di Commercio di Sassari Salude e Trigu e tra i suoi aspetti fondamentali ci sono l'attenzione verso tematiche sociali, la sostenibilità ambientale e il contributo alla promozione turistica ed economica del territorio.